Forse non tutti sanno che Ötzi aveva una sessantina di tatuaggi. Lo studio di archeologia pubblicato il 13 marzo 2024 spiega come erano fatti. Dimostra che i suoi disegni sono stati realizzati con tecniche simili a quelle di oggi. Lo studio è su European Journal of Archeology per Cambridge University Press. Ötzi è la momia detta uomo di Similaun, trovata nel 1991 nei pressi dell'omonimo Ghiacciaio e risale a 5.300 anni fa. È custodita al Museo archeologico di Bolzano. Anche se ancora oggi non si sa il motivo dei tatuaggi, rituali o una sorta di agopuntura, il team di ricercatori americani in collaborazione con il tatuatore professionista ha ricostruito l'antica tecnica. Il tatuatore si è sottoposto a questo esperimento archeologico sulla propria pelle, riproducendo i segni dell'uomo di Similaun. Gli scienziati gli hanno fatto provare diverse tecniche, hand tapping, hand poking, incisione e tatuaggio subdermico. Gli hanno fatto usare diversi materiali, ossa di animali, ossidiana, rame, zanne di cinghiale e un moderno ago d'acciaio. Hanno scoperto, infine, confrontando la pelle guarita con i tatuaggi di Ötzi, che questi sono simili a quelli fatti con la tecnica del hand poking, con punteruoli, per Ötzi probabilmente un punteruolo in osso o in rame, intinti con un inchiostro tratto da sostanze vegetali carbonizzate.